Che cosa vuol dire per me guardare avanti? Io ho molta difficoltà a guardare oggi, per mia natura da sempre, né bene né male, però ho sempre guardato avanti. Mi è sempre piaciuto guardare oltre, guardare più là, perché credo che se uno non guarda avanti riesce specialmente in un'azienda a non dare futuro, invece l'azienda ha bisogno di investimenti a lungo termine, non a breve termine, sono meno costruttivi. Un'azienda si crea, abbiamo investito nel brand, oltre che nel laboratorio, nella comunicazione, nel pack, per un progetto a lungo termine e questo è una cosa che ci ho sempre creduto, investire a lungo termine, specialmente nell'azienda, che si guarda al futuro, chissà cosa sarà e non so che cosa sarà, di chi sarà, che cosa sarà, spero che sia comunque qualcosa, che lasci qualcosa. Nel guardare avanti abbiamo fatto questo cambio generazionale alcuni anni fa, passando da Lunardi, dal babbo e dalla mamma, passando proprio a mettere la nostra faccia e il nostro nome, fratelli Lunardi. E lì c'è stato tutto un lavoro che abbiamo fatto appunto sul brand, sul pack, è stato un momento che ci ha fatto guardare lontano, guardare dentro di noi molto, guardare lontano, perché comunque anche lì bisogna credere in tutto, bisogna essere contenti di quello che si fa, bisogna fare le cose, guardare avanti ma con la nostra strada, con il nostro pensiero, perché è una cosa nostra, può funzionare appunto solo se è così. Il marchio è appunto, ci hanno disegnato questi due occhi, che per noi gli occhi sono fondamentali, ci sono gli occhi che ci guardano e che ci sentiamo addosso e ci guardano, sono i nostri occhi che guardano avanti, guardano lontano, guardano indietro, guardano, guardano, da qualche parte guardano sempre e sono appunto questi nostri due occhi. Come mi vedo nel futuro? Spero di essere bravi e capaci di creare su un gruppo che nel futuro dell'azienda mi possa liberare del tempo, del tempo da dedicare a me stesso, a quelle passioni che ho, che sono automaticamente riportate verso il mondo del cibo. Ecco, questo mi piacerebbe pensare per il futuro, vorrei essere bravo a costruire questo. Fortunatamente, come ho già detto, faccio questo lavoro perché mi piace, non perché sono nato in una famiglia dove avevo già questa storia, sono stato fortunato, i nostri genitori molto probabilmente sono stati bravi, inconsapevolmente, a trasmetterci tutta questa passione, quindi non vedo un futuro fuori da questo mondo, a me piace moltissimo questo mondo, il mondo del cibo in generale e quindi mi vedo sempre nel futuro in questo mondo qui e spero appunto nella mia azienda di creare un gruppo che non ha bisogno costantemente della mia presenza, solo del mio. Cosa voglio fare da grande? Da grande abbiamo già fatto dei passi, dei grossi passi in avanti in ultimi tempi, siamo passati da un piccolo laboratorio che avevamo da una vita annesso al negozio dove producevamo anche tutta la parte della biscotteria, dei cantucci eccetera. Da qualche anno a questa parte abbiamo strutturato un laboratorio in un modo un pochino più fluido e più produttivo, con degli spazi importanti, con tutte le fasi di lavorazione dedicate al prodotto che viene fatto. Per noi è già un bel traguardo riuscire ad avere un laboratorio con degli spazi importanti. Questo è non fermarsi al semplice negozio di paese, ma avere un'azienda, avere un laboratorio strutturato ti permette di avere anche una visione diversa di quello che puoi affrontare. Ti puoi permettere di pensare a dei progetti che prima non era pensabile. Questo è un po' il futuro, insomma, riuscire a non perdere l'artigianalità, cioè nel lavoro con le mani, però in modo un pochino più moderno, un pochino più attuale. Difficile dire tra dieci anni cosa sarà la Fratelli Lunardi. Posso dire che è un settore dove i cambiamenti sono molto lenti. Non è un settore dove la tecnologia cambia mese a mese, ecco. Lavoriamo ancora con dei macchinari che sono attualissimi, roba degli anni 50, degli anni 60, che viaggiano tuttora bene e riescono a dare un prodotto che forse le nuove tecnologie non danno. Danno molta velocità, ma non qualità. Poi viviamo in un periodo dove i progetti cadano molto facilmente. Sì che viviamo dei progetti non a lunghissimo termine, ma viviamo progetti realizzabili. Progetti con tempi umani e realizzabili. Penso che sia la cosa più fondamentale. L'abbiamo visto negli ultimi tempi. Poi noi siamo un'azienda che fondamentalmente facciamo prodotti da forno. Lavoriamo con Tucci. I documenti storici si risale a forse il 1600, 1700. Si parla di centinaia di anni fa. Perciò quando si parla di prodotti della tradizione è bene toccarli anche il meno possibile. Cioè nel senso toccarli, ma in modo sensato, nel senso arrotondare dei gusti, cambiare degli ingredienti, ma migliorare la composizione ad offrandi degli ingredienti con un gusto migliore. Ecco, le nostre ricette sono state riviste tantissime volte. Secondo degli ingredienti che scoprivamo di volta in volta, o dei produttori che scoprivamo di volta in volta. Il fatto di cambiare un sistema di produzione o ritoccare leggermente le nostre composizioni, delle ricette, è stato ultimamente il GP del Cantuccio alla Mandorla. Ci siamo adeguati al disciplinare per avere per l'appunto un importante riconoscimento di qual è il GP che ci può aprire, comunque sia, dei mercati che senza quel marchio è onestamente difficile interare. Penso di essere stata fortunata a fare un lavoro che mi piace, già senza farmi troppe illusioni sul futuro. Vivere in un win. Beh, io sono uno che per natura non ci ho troppo pensato al mio domani. L'idea del mio domani è ora. Che ho sempre vissuto così, forse calendario che poi è sempre monotono, però insomma il calendario che scandisce un po' il tempo per un pasticcere o per quelli che fanno il nostro lavoro, sono le feste. E lì non si scappa. Le feste scandiscano un tempo ben preciso, sia di stagione che di piaceri, via. Le feste più importanti sono le canone. Il Natale, in primis, la fa veramente da padrona il Natale nel nostro lavoro. Segue la Pasqua. Fra il Natale e la Pasqua c'è il Carnevale e poi c'è la parte più estiva dove ci sono cose più fresche, più leggeri. Però ecco, poi si riparte con l'autunno, con tutta la parte dei frutti autunnali. Settembre e settembre c'era un po' la nostra festa paesana. Primo martedì di settembre era la festa e tutte le aziende di Quarrata, che ce n'era veramente tante, era un po' l'industriale importante negli anni 60, 70, fino agli anni 90. Non c'era un operaio che rientrava prima della festa del patrono di Quarrata, che quello scandiva costantemente, tutti gli anni, l'inizio poi della stagione.